Ragazzi vi aspetto sabato 23 settembre a Bari alla libreria Ubic Liberrima Portate il vostro libro ma anche i vostri disegni Ragazzi oggi Freddy ha deciso di darmi un pugno alla porta Vi la do' far pagare questa Ciao a tutti ragazzi sono Lorenzo e oggi siamo su Notti Brutte a Freddy Allora in attesa del film di Final Fantasy che deve uscire ho deciso di prendermi qualche infarto E di fare appugni con Freddy si piace Freddy fai pugni Ragazzi ogni iscrizione a questo video un pugno contro Freddy che ci vuole mangiare Iniziamo Buongiorno a tutti Ah questo non è un fenafe normale ragazzi possiamo andare in giro per la pizzeria Cioè è troppo bello Oh mamma mia ma è tutto buio Oh quello quello là sotto è pugni Allora seguiamo le istruzioni V-AFT No in questo momento devo capire per mutare l'audio M Sì Allora pressi space bar per aprire le telecamere Left to run E tutto a parte Ok adesso c'ho Uh che bello Cioè sembra veramente di stare dentro il film di Feraffa Allora prendiamo la torcia e accendiamola No ok c'ho la torcia No non ci credo ragazzi Sarà come nel film che arrivo qua dentro e poi Bonnie mi fa le cose brutte No non voglio essere fatto le cose brutte da Bonnie Ma guardiamoli i nostri animatronici Allora ci abbiamo Bonnie il brutto No scusami Bonnie sei bello sei bello Freddy il bello No no scusami tu sei brutto E poi abbiamo Chica quella che ingrassa Non mi guardare male cupcake Lo so che in realtà tu mi vuoi mangiare la faccia L'ha fatto nel film Quindi perché non dovrebbe farlo qui Uh ma qua c'è il bagno c'è il bagno delle ragazze e delle ragazze Allora non si fa ragazzi non dovete andare nelle bagno delle ragazze senza il loro permesso Va bene mi sa che devo ritornare prima che mi succeda qualcosa Voi che dite voi vi state muovendo No non si stanno muovendo Via ritorniamocene Così riusciamo a capire questo gioco Posso chiudere le porte Sì Cavolo ok Dobbiamo stare attenti Speriamo che Freddy non ci sfonda la porta Anche se è quello che farà Sicuro Non vedo l'ora che Freddy mi sfonda la porta Voglio solo vedere lui Sbaglio o ci sono rumori Oh no Oh no Scappa 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 Allora possiamo aprire le telecamere con Space Wow Ok e qua si vede la nostra telecamera Ma c'è un endoscheletro in camera 5A Aaaaa E quindi aspetto un attimo Se io vado in giro ora Shhh Shhh Non mi hanno sentito vero C'è qualcosa qua Ecco è aperta Un endoscheletro No vabbè No la testa di bo No la testa di tutti No tra poco ci sarà pure la mia testa Ciao endo quanto tempo Sei molto sveglio Diceva la tua madre Eh Mio figlio è sveglio Solo che non si applica a scuola eh Mio figlio è molto sveglio Ok che ore sono 3 del mattino Però ancora nessuno si muove E le luci flickerano Questo è come sta una guardia notturna Questo è il suo posto di lavoro E questo è lui Ah che bello Giriamo un po' su tic toc Che te Aaaaa Che cosa sta succedendo qua Mi stanno uccidendo No per fortuna Aaaaa Questo è come giocano le guardie notturne Nel frattempo Dimmi che posso Fermare il naso di Freddy Sii Ragazzi troppo pelle Il naso di Freddy Posso spegnerlo No No Allora Che è uscito un fumo viola Oh no Oh no perché No Foxy Foxy no Oh Che brutto Lo vedete Aspetta mi metto fermo Lo vedete No non lo vedo io Aspetta Lo vedete che mi guarda Oh no Bonnie Stai venendo qua Bonnie Oh mamma mia Mamma mia Mamma mia Ti prego Freddy Non mi dare un pugno Bonnie Non andare nello scantinato Ma come sta camminando Bonnie Ma almeno stai attento Un po' alle stelle Là Se no ti girano Le stelle Che hai in testa Che stiamo attenti Che adesso che è partito Bonnie Bonnie dove cavolo sei Ma dove sei messo 5 del mattino Ragazzi Loro non riusciranno mai A raggiungere la mia postazione Mai Lezze parti Ma lezze mangi Controlliamo 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 Ok lui è rimasto là Cica Cica la gallina Fa cocodè E io mi sto H che so Non si dice Non ti azzardare A venire qua Allora se i miei calcoli Sono corretti Si dovrebbe fermare qui Lavora un pezzo di pizza Mi sa di no Ok lui se ne va Lei sta arrivando Chiudi la porta Almeno 3 3 2 1 Chiudi Bella Cica Volevi venire qua Invece No Si Però non va bene Questo Cosa succede Se Foxy Inizia a correre Devo vederlo Ok Mo Qua E la fine Prendi Bevi questa La coca cola Non posso bere la coca cola Non lo so La pepsi Neanche Siete sia contro la coca cola Che la pepsi Ragazzi Qual è il vostro gusto preferito Coca cola o pepsi Scrivetelo sotto nei commenti Nel frattempo Vediamo se Quelli si muovono O no Ok Ma vediamo i luoghi segreti Ragazzi Perché ci saranno i luoghi segreti Qua dentro Qua c'è l'uscita Ma posso uscire? Cioè Sarebbe la soluzione Più appropriata No C'è scritto exit Exit Invece io non me ne exgo Entriamo qua dentro Ci saranno i segreti Tutto buio Non si vede un accidenti Anzi Un acci freddi Non si vede Freddi ti posso Focquantare una canzone Basta Basta Prima che mi uccidano Perché io sono Troppo Troppo Intonato Vero? Sono troppo Allora Se sono troppo Intonato Ditemi Sì Anzi Muovetevi Ragazzi Ho un bellissimo pubblico Se volete Faccio pure Il tippy tap Ah ma io sono Il purple Non era così Foxy Non era Ma io sono proprio Il purple Guardate Mi manca un unghio Del piede Anzi no Direttamente Mi manca il dito E puzzo Ma che vuol dire Che puzzo L'ultima volta Che ti sei lavato Signore Che schifo Mi sto Decomponendo Qualcuno Mi rimonti Per favore Come lego Buongiorno Ale è qua Ma ragazzi Che succede Se io mi avvicino Dai io sono Temerario Io sono Purple guy Bonnie Bonnie Non guardarmi Non guardarmi così Intensamente Lo so che tu mi ami Ma io ti amo Di meno Via Ciao Ma se io mi metto Dentro lo stanzino No Meglio Mi mettersi Dentro lo stanzino Facci tu Dentro l'ormaggio Delle scope Io rimango qui È preoccupante La situazione Ok Questa notte Si dovrebbe muovere Freddi Sono curioso Di vedere I movimenti Che fa Ma se io vado qua Qualcosa mi dice Che Ma tutto bene Bonnie Bonnie Signor presidente Signor presidente Signor presidente Meglio non andare là Meglio non andare là Sono le 3 del mattino Dove sta Cicca la gallina No Ragazzi Si è mosso Freddi Non si vede un accidente Ma si è mosso Freddi Ah Chiudi Bonnie Sai adesso Che cosa ti faccio Ragazzi Adesso Vado dall'altra parte Pronto Ah No Non volevo andare Dall'altra parte Non ci posso andare Volevo andare a girarlo E fare i marabè Ho continuato a camminare Così lento Oh no 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 It's a me It's a me Mario It's a me Mario Quanto ho di percentuale Di batteria 76% Oh no Ma lui dove sta Dov'è che sta Non posso vederlo Sta proprio accanto a me Sta proprio accanto a me E Cica Cica pure qua sta Ragazzi Io non mi vorrei dire niente Ma vi dovete togliere 4 del mattino No Foxy è uscito No ma tu sei pazzo Ma tu sei pazzo Rimango bloccato Qui a vita Va bene Ok ragazzi Non ci sono Quindi se dovessi aprire Non ho visto niente Tu Oh Se n'è andata Ok Uno se n'è andato L'altro Quindi qua posso aprire Ciao Cica Eh ma c'è Bavaia al contrario Cica No ma C'è Foxy No Foxy è uscito Oh no Foxy Oh no 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 Questo mi segue Questo se corre è la fine Guardate sta preparando Foxy Cica via Foxy che fai Non corri Ma Freddy Freddy è là Ok Freddy è ferro Cosa c'è Un cupcake No povero cupcake No me lo volevo mangiare Invece è ancora là Dai che sono le 5 del mattino Basta Io sono temerario Addio È stato bello riceverti qui Sì Ma dai ma sono troppo forte Cioè non è possibile Comunque questo gioco è stupendo Terza e ultima notte Babbei Ovviamente non sono io il babbeo Però adesso vediamo lo stanzino Secondo me c'è una stanza segreta Nello stanzino Non abbiamo ancora visto tutti i segreti E soprattutto Freddy ancora non ci ha dato un pugno alla porta Meglio di no Meglio di no Comunque io adesso rimango qua Affinché uno dei tre si muove Va bene Guardatemi pure male Oh mamma mia Che è successo Che è successo No scusa Non era Non volevo Scherzavo Scherzavo giuro Scherzavo fino a un certo punto eh Comunque rimango così Eccolo Bonnie che si muove Ma Ma lui fa proprio cadere la città Ma spiegami un attimo una cosa Bonnie Cioè praticamente loro non mi vedono Cioè Non mi dovrebbero inseguire No no Non mi vedono Cioè Bonnie rimane così Cioè Bonnie mi jumpscare solo se gli vado vicino Cioè gli posso pure stare dietro Cioè non ci credo Ciao bello Non mi succede niente Perché io sono il lince di Five Nights at Freddy's Ecco perché Chica si mette qua? Che cosa guardi? Ah la telecamera Ma per Oh mamma mia come la guardi male sta telecamera Che ti ha fatto? Comunque Chica se non sbaglio Entra dentro la cucina Io sono curioso Se lei entra dentro la cucina Voglio vederla che entra Oh no no Forse non entra dentro la cucina in questo momento Ok non entra dentro la cucina Va verso di me Va verso me E vabbè Tu invece Va bene là Chiudi chiudi Ma è sparita Dove cavolo è finita? Oh no Fuori uno Scusa ma c'è la Chica Dove cavolo è finita? Ma che è successo? Freddy tutto bene Oh ma io posso sedere sopra lo stage Wow Wow Non è meglio non toccarlo Ciao Tu Oh Oh finalmente ho fatto quello che volevo fare Ciao Bonnie Io sono qua Che fai? Oh Deficiente Ma che intelligenza hanno sti animatronics Vabbè Aspetta un attimo che adesso va dall'altra parte Almeno ti diverti No non chiudere Non chiudere Mannaggia a te Cica Oh Mi vedi Mi vedi Mi vedi Mi ha visto Ok mi ha visto Uh Allora ce l'hanno un'intelligenza sti animatronics Mi sembrava un po' strano Oh Ci hanno cercato di fregarmi Due del mattino Com'è possibile che sono ancora le due del mattino Cica non mi guardare così Ragazzi Ho voglia di fare una pazzia Voglio aprire a Bonnie Bonnie Ciao Bon Bravo Bravo Bonnie No C'è Ok Ho fatto la cavolata Ma l'ho voluta fare Ragazzi Io direi che questo video Lo posso anche terminare qua Mi raccomando Clicca il tasto di iscriviti se non l'hai ancora fatto E noi ci vediamo in un prossimo video E Ciao